Questa mattina, dopo anni di disagio, è stata aperta al traffico via Stefano a Semania d'Acilia, nel tratto compreso tra via Gino Bonichi e via Orazio Amato. La strada di fondamentale importanza per la viabilità del quartiere San Giorgio è passata ufficialmente al patrimonio del Comune di Roma. Oggi è un grande giorno per i cittadini di Acilia e l'amministrazione ha fatto un grande lavoro con gli uffici di Capitolini. Il 7 ottobre abbiamo sancito, dopo mesi di lavoro, che la risoluzione era le determini dirigenziali che la Polizia del X Gruppo Mare e il Dipartimento Mobilità, Sostenibile e Trasporti dovevano fare, tanto è che il soggetto attuatore tramite il Dipartimento ha inviato due tabelle distinte di planimetrie e il 17 novembre sia la Polizia Locale sia il Dipartimento hanno fatto queste determini dirigenziali per il prolungamento di Vochetti e per la disciplina di traffico di Signorini Amato e Cisterna. Il 9 gennaio, abbiamo detto che entro gennaio si apriva a Semani e il 13 gennaio è arrivata la lettera del patrimonio per l'emissione alle strade del municipio. Ci siamo messi di punta perché era una strada chiusa da dieci anni, io questa strada l'ho vista nascere proprio insieme con i palazzi. Un anno di lavoro intenso, però ci siamo riusciti, tant'è che abbiamo portato pure adesso questo piccolo rinfresco per gioire con la cittadinanza perché è un momento importante, anche perché ci sono le scuole qui e quindi la viabilità diventa sempre più fondamentale. Dopo dieci anni finalmente la strada viene aperta. Sicuramente è stato un grande lavoro, un ottimo risultato, un ottimo risultato seppur avvenuto dopo troppi anni. Finalmente abbiamo trovato una commissione dei lavori pubblici che ci ha un po' fantasia da lavorare e si è risolto il problema. Finalmente la gente può muoversi un po' meglio, qui c'è la scuola, c'è la chiesa, c'è i carabinieri, insomma c'è tutto, è una via vitale. Inizialmente quando è stata realizzata come opera a scomputo ci siamo subiti attivati. Sono circa 15 commissioni che faccio dalla precedente consigliatura ad oggi che è partita ovviamente, bisogna sempre ricordarlo, quello che effettivamente ha fatto il Movimento 5 Stelle nella precedente. Oggi finalmente il Presidente Di Matteo è riuscito praticamente dopo 6-7 commissioni fatte in questa consigliatura a aver portato a determinazione la realizzazione dell'apertura della strada che peraltro è importante perché lo chiedevo da sempre era anche la realizzazione della percorribilità di altre due strade che sono confluenti su questa, via Cisterd e via Raziamato che anche quelle hanno avuto dei grandi problemi di viabilità.